Buongiorno a tutti, la facilissima ricetta chetogenica di oggi è il tomino alla griglia. Potete utilizzare anche un altro formaggio come l'allumi o un formaggio tipico della vostra regione che si può grigliare. Avrete bisogno di pochi e semplici ingredienti. I tomini da grigliare, lo speck a dadini ma potete utilizzare anche il bacon, il prosciutto, la pancetta, quello che più vi piace. Dell'insalata, noi adoriamo la valeriana che ha anche un effetto rilassante e quello che servirà poi per i condimenti, olio, aceto di mele e sale. Mentre la bistecchiera si scalda, rendete croccante il vostro speck cuocendolo in un'altra padella con un po' di olio d'oliva. A questo punto adagiate i formaggi sulla superficie rovente, lasciandoli lì per qualche minuto finché non saranno soffici dentro. Nel frattempo condite la vostra insalata con sale, aceto di mele perché quello balsamico contiene troppi carboidrati e un buon olio d'oliva, senza mai dimenticare quello che avete lasciato sul fuoco. Come potete vedere il nostro speck è croccante al punto giusto, quindi spegnete il fuoco e girate i tomini dall'altro lato, in modo che si abbrustoliscano anche dall'altra parte. E' il momento di comporre il piatto da portata con l'insalata come base, i tomini appoggiati sopra e per finire il nostro speck come delizioso topping. Questo piatto sarà buonissimo ma anche bellissimo. Guardate che meraviglia e buon appetito a tutti! Spero che anche la ricetta di oggi vi sia piaciuta e che vi iscriviate al mio canale. Se siete già iscritti, grazie mille! Ci vediamo comunque qui ogni venerdì con un video sulla dieta chetogenica in italiano, ma anche il lunedì con lo stesso video in inglese e il mercoledì in spagnolo.